questa sera la nostra cuoca fa una ricetta molto semplice il pesto di rucola il pesto di rucola però precisiamo che non sono io la cuoca preparo oggi io perché vai una ricetta semplice non magari come altre ricette molto che andiamo a sperimentare questa ricetta semplice mi ha detto posso farlo io la faccio io quindi non è che sono io la cuoca ok sei l'apprendista l'apprendista strecola vai iniziamo a mettere la rucola nel mixer poi mettiamo abbiamo messo circa 100 grammi di rucola in seguito mettiamo parmigiano vai con parmigiano circa 50 grammi poi diciamo lentativamente un cucchiaino poi mandorle che possono andare anche bene i pinoli non ce ne avevamo quindi mettiamo le mani per circa 50 grammi poi mettiamo uno spicchio dai che tagliato a metà fresco e aggiungiamo l'olio dimmi basta va bene così ok un po di sale benissimo e passiamo a fruttare a questo punto l'operazione è completata il compito è stato brillantemente portato a termine come buone va bene vai scoliamo la pasta già stata scolata mettiamo la pasta benissimo va bene così va benissimo aggiungiamo prego grazie c'è l'assistente sempre pronto mettiamo un cucchiaino qualche cucchiaino di pesto ok ora provvediamo a girarlo ecco qua il piatto è terminato e niente arrivederci ci vediamo nel prossimo video